Con Bruno Trocini per commentare questa partita, io le riporto quanto detto in studio poco fa dai nostri colleghi è una classifica bugiarda quella della Fidelissandria, almeno quanto visto oggi. Ah, è bugiarda, è quella reale purtroppo, per noi è quella reale. Dispiace perché volevamo a tutti i costi provare a vincere la gara, non ci siamo riusciti ovviamente anche per la grande forza del Pescara che è venuta qua per vincere la partita e noi secondo me siamo anche stati bravi in questo senso ad imitarli un pochettino anche se nel secondo tempo per mezz'ora abbiamo spinto forte e potevamo riuscire a sbloccare la gara e non ci siamo riusciti. La prestazione è certamente stata all'altezza, a prescindere se sia giusto o meno il pareggio a noi non soddisfa ovviamente per la situazione che abbiamo. Andiamo a vedere tatticamente la partita, ha sorpreso un po' con l'assetto, noi ci aspettavamo un 3-5-2 invece in una chiara linea a 4 con Mikoski esterno da un lato, perché questa scelta è molto compatta comunque, la squadra andava a pressare i portatori di palla del Pescara e provava anche a colpirli per via centrali alle spalle dei due centrocampisti. Perché questa squadra, io sono subentrato da una ventina di giorni, il tempo di conoscere è probabilmente adatta a giocare in questa maniera, ha degli esterni offensivi molto bravi, dei centrocampisti anche con quelli che sono arrivati, Costa Ferreira e Sadandria nell'ultima settimana, ci permettono di avere un centrocampo a tre di qualità e quantità, quindi il vestito probabilmente più adatto a questa squadra sarà questo. Le faccio un'ultima considerazione che poi deve lasciarci, mister, nel secondo tempo diceva bene lei, avete spinto molto, con Candellori forse l'occasione più nitida, lì è stato molto bravo Bobben, poi nell'ultimi dieci minuti avete rallentato un po' quando sono entrati Cupone e Colai, troppa paura di prendere ripartenze con quegli esterni freschi del Pescara? Sì, negli ultimi 6-7 minuti si sono messi praticamente, Pescara si è messo con quattro attaccanti puri, freschi tra l'altro, e in un paio di situazioni poteva farci male, quindi a 5 minuti alla fine, 6-5 più recupero, abbiamo cercato di rimanere un po' più compatti, perché per vincere la gara rischiavamo di perderla, stavamo perdendo equilibrio e questo sarebbe stato ancora peggio.